Sì, sì, ho visto più o meno come giocano, però nei due ruoli davanti, sia a destra che a sinistra, potrei giocare. Vedo che giocano con la punta, un esterno sinistro e una mezza punta più o meno. Sì, potrei fare sia uno che l'altro, poi sono a disposizione del mister, quello che mi chiede, sicuramente spero di farlo al meglio poi. Premesso che spero che ci saranno pochi momenti difficili, che almeno saremo avanti con la classifica e quindi saremo più sereni. Tu ti riconosci queste qualità? Sì, ho sempre lottato, quindi non è che mi trovo qui a fare le cose diverse, quindi bisogna lottare tutti insieme, bisogna guardarsi in faccia e vedere che la salvezza è ancora lontana, quindi bisogna lavorare bene, insieme a tutti gli altri compagni, nessuno escluso, quindi bisogna prendersi le responsabilità, andare in campo e far bene, perché l'unica cosa è il campo, poi alla fine conta. Devi essere lucido, giocare bene, stare attento a tutte le situazioni, devo portare in campo sicuramente molta lucidità. Quello che è successo è ormai successo, quindi per me è acqua passata. Riparto da qui, mi hanno dato veramente una grande possibilità, che fino al giorno prima pensavo che ero ormai fuori da tutti i giochi. Quando ti porti dietro certe situazioni è difficile anche trovare squadra. In questi mesi ho capito veramente chi mi vuole bene, chi veramente non merita nemmeno la mia amicizia, quindi penso che ho detto tutto. Devo dire grazie veramente al Presidente e al Pescara che mi hanno portato qui, con un grande sacrificio loro, anche io dalla mia parte, e adesso sono qui, devo lavorare, far bene per il Pescara. Non lo so, spero presto, perché quando stai fuori per 6-7 mesi è normale che, non è che attacchi la spina ai giochi, è normale che ci vuole un pochettino di tempo. Spero che sia breve questo tempo, anche perché vorrei dare subito il mio contributo. O c'è anche Marinelli che conosci bene? Come faccio a non conoscerlo? Presidente, è stato importante per me sicuramente molto, che è nazionale, abbiamo fatto veramente grandi risultati con un europeo, poi terze delle Olimpiadi, tante battaglie insieme, è sempre presente il Presidente, sempre presente. Sempre a casa? Molto, molto, molto. Devo essere sincero, sì. Spero veramente di riuscire a ripagare questa fiducia. Grazie a tutti.